Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, oggi andremo a fare un lavoro breve, di circa 20 minuti, ma molto intenso, sui glutei, la parte debole delle donne. Allora, io oggi utilizzerò una fascia elastica di media resistenza. È un attrezzo che io adoro, però se non l'avete in casa, non preoccupatevi, gli esercizi potete farli ugualmente. Allora, iniziamo e buon divertimento e buon allenamento. Carichi! Bene, iniziamo, proviamo la nostra fascia, dimarchiamo le gambe, larghezza spalle e ci leghiamo. Bene, fate un bel piocco. Mi raccomando, l'elastico è sempre in tensione, non deve essere mai morbido, sempre in tensione. Iniziamo. Riscaldiamoci. Facciamo una marcia. Ok? Marcio. E fin qua. Tutta una grande. Bene. Al mio. Quattro. Tre. Due. Ragazzi, stettaccia. Apro chiudo. Apro chiudo. Vedete che è sempre in tensione? Apro, apro, apro. Cerchiamo di scaldare. Apro, apro, apro. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Stessa identica cosa, ma apro di più. Apro, 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 apro. Vai! Cerco di aprire il più possibile. Tanti. Tanti. Vai. 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 Apro, apro. Ultimo. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E marcio. Da qui, prendo la mia fascia e la sposto sopra le ginocchia. Sempre in tensione. Quattro. Tre. Quello che vado a fare sono dei semplici squat. Scendo e torno. O. La fascia è sempre tesa. Scendo e salto. Vai. O. Torno. Scendo. Torno. Vai. Ancora. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Rimando giù al molleggio. Scendo. Ancora. 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 Un'ultima volta. Piccoli. Giù. Vai. Vai. Quattro. Tre. Due. E ultimo. Otto. Grande. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ok. Bene. Ora. Sempre con la fascia sopra le ginocchia. Scegliamo. Quello che dobbiamo fare è camminare a destra e sinistra. Ok. Partiamo da destra. Due passi a destra. Apro. Apro. Torno. Rimanendo sempre bassi. Ok. Vado. Torno. Ancora. Ultima. Vado. Torno. Mi fermo. Scuono. E direi che il riscaldamento è andato bene. Quattro. Tre. Due. Molto bene. Ok. Ragazzi. Ora voglio che la fascia ritorni alle caviglie. Sempre in tensione. Mi metto di qui così. Mi vedete? Gamba. Guarda che rimane dentro. L'allungo. Sposto qui indietro che posso. Da qua. Tallone giù. Porto avanti la gamba e schiaccio verso il basso. L'importante è che il pallone arrivi a terra. Vai. Su e schiaccio. Vai. 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 Spingo. Deve proprio schiacciare. Schiaccio. 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 Allora. Continuate a farlo. Non va bene se l'elastico rimane molle. Più in tensione è? Megliore. Ancora. Vai. 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 Ultimo otto. Schiaccio. 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 Vai. Vai. Ok. Ovviamente la gamba che sta davanti è leggermente piegata. Vai. Quattro. Quattro. Tre. Due. E stop. Ci giriamo. E cambiamo. Gamba. Ok. Gamba davanti invece è leggermente piegata. Poi là dietro. Più indietro che posso. Tallone a terra. E va. Schiaccio. Schiaccio. Vai. 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 Addominali. Supercontratti. Vai. Movimenti controllati. Otto. Sette. Schiaccio. 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 Vai. Dai. Quattro. Tre. Due. Ultimo otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Cinque. Quattro. Tre. Due. E stop. Molto bene. Ok. Continuiamo. Non ci torniamo mai. Gambe. Narghezza spalle. Molto semplice. Piego leggermente la gamba destra. Ma quello che faccio è tocco e torno. Con la punta del piede. Sinistro. Tocco. 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 Vai. Vai. Tocco lateralmente. Molto bene. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Pronti? Ok. Ok. Ragazzi. Si cambia gamba. Di là. Otto. Vai. Tocchi. 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 Tocco. Tocco e torno. Vai. Controllate. Controllate che sia sempre peso l'elastico. Molto bene. Ancora un otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Attenzione. Torno di là. Quattro. Tre. Due. Cambio. Subito. Quattro. Tre. Due. Quattro di là. Quattro. Tre. Due. Cambio. Quattro. Tre. Due. Si cambia. Quattro. Tre. Due. Cambio. Due. 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 Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Molto bene. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Due. Ok. Ragazzi. Singolo. Pam. Pam. Tenete la piegata la gamba che sta firma. Vai. Vai. Quattro. Tre. Due. Due. E stop. Scioglio. Bene. Non ci fermiamo. Prossimo esercizio. È molto simile a quello che abbiamo appena fatto. Però la differenza sta. Gamba destra è uguale a piegata. La sinistra va indietro in diagonale. Ok? Ok? Vado in diagonale. Pronti? È sempre un tocco. Si va. Vai. Tocco e torno. In diagonale. E indietro. Vai. 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 Tocco. Tocco. Si cambia subito. Vai. Dietro. 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 4. 3. 2. Cambiamo gamba. 4. 3. 2. Andiamo in là. 4. 3. 2. 4. 4. 4. 3. 2. Di là. 4. 3. 2. Cambio. 4. 3. Cambio. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Dietro. 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 1. 2. 1. 2. 1. Anche qua. 1 e 1. Pam. Pam. Mi raccomando in diagonale. Vai. Dovresti iniziare a sentirci. 1. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 2. 1. Bene. Ora, per la gioia di tutti, uniamo le cose, i due esercizi. Quindi, partiamo sempre con la destra ferma. La sinistra apre, torna, dietro in diagonale e torna. Ok? Apro, dietro. Apro, dietro. Pronti? E andiamo! Apro, dietro. Apro, dietro. Apro, dietro. Vai. Vai. Apro. Sono sempre dei tocchi, eh. Ultimo. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Veloci. Si cambia. Si cambia. Vai. E stop. Bene. A terra. Ragazzi. Ci mettiamo sul fianco. Portiamo la nostra fascia sopra le ginocchia. ci sdraiamo. Importantissimo. Ginocchia. Belle avanti. La gamba che sta sopra non si appoggia a quella che sta sotto. Rimane su gambe avanti. Quindi, quello che devo fare è apro, chiudo piano. Apro e chiudo piano. Vado. Ovviamente la gamba che sta sotto non si solleva. Vai. E torna piano. Vai. Potete star giù anche con la testa. 8. 7. Piedi e mantenti. 6. 5. 4. 3. 2. Molleggio. Piccoli. Apro. 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 Vai. Piccoli. 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 4. 3. 2. E ancora un 8. Grande. Apro. La fascia è sempre tesa. Non arrivate qua. Mai. Sempre tesa. 4. 3. Attenzione. Da qui. Porta il ginocchio al petto. Con la fascia sempre in tensione. Vai. Vai. Bravi. 4. 4. 3. Ora dobbiamo alternare. Apro. Ginocchio al petto. Apro. Petto. Vai. Apro. Ginocchio al petto. ultimo otto così. Dai che abbiamo finito. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. E stop. Da qui. Ovviamente bisogna fare l'altro lato. Quindi ci si sdraia. ginocchio al petto. Ginocchio al petto. Ginocchio al petto. Ginocchio al petto. Pronti? Pieno il martello. E si parte. Apro. Apro. Vai. Molto bene. bene. Ancora un otto. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Piccoli. Vai. su. 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 Vai. Apro. 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 Bel bel peso. Ok. Un otto grande. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bene. ginocchio al petto. inalto. Vado. 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 E torno. Se riuscite a fare arrivare ginocchio al mento. Un po' meglio. Vai. Con un otto così. 8. 7. Non so voi, ma uncomfortable. E 4. 3. 2. Alternato. apro, ginocchio, apro, ginocchio, su, vai, apro, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop, visto che siamo già a terra, quello che faremo ora è, ragazzi, fascia alle caviglie, ovviamente sempre attesa, mani lungo i pianchi, testa appoggiata, piedi a martello, l'unica cosa che devo fare apro e chiudo piano, ok, non lasciate andare la fascia, e andiamo, apro e chiudo, apro e chiudo, vai, apro, potete anche mettere le mani dietro la punta, come siete più toni, vai, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ora le punte dei piedi si guardano e faccio la stessa identica cosa, apro e chiudo, l'importante è che le punte si guardino, vai, vai. ora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torno con i piedi normali a martello, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ora, piccoli, molleggio, fascia sempre in tensione, vai, piccoli, 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 4, 3, ora grandi ma punte che si guardano, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, 4, 3, 2, e anche qua, piccoli, vai, 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 no che non fa male, 4, 3, 2, torno con i piedi normali e spingo, più che posso, cerco di aprire, spingo verso l'esterno, fa niente se le gambe cremano, tengo, 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 tengo e molleggio, piccoli, vai, 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 ragazzi ben finito, vai, 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 4, 3, 2, e appoggio, ok, andiamo verso l'ultimo esercizio, fascia sopra le ginocchia, appoggio i piedi, mani lungo i fianchi, bene, sollevo il bacione e si va, su e giù, non appoggiate mai il sedere per terra, sfiorate il pavimento, vai, quando salgo con trago viene l'ultimo, con trago e lascio, vai, ancora, 4, 3, 2, ultimo 8 così, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e rimaniamo su, continuo a contrarre i punti, da qua sollevo le punte dei piedi, ok, e rimango, tengo, 8, 7, 6, 5, 4, su, su, eh, 3, ora, extra vuoto le punte dei piedi, apro e chiudo, apro e chiudo, vai, i glutei rimangono sempre su col bacino, eh, apro e chiudo, apro e chiudo, ancora, 8, sui talloni, eh, in questo sui talloni, vai, 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 ancora, 8, ultimo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e appoggi i piedi su bacino, come l'inizio, e abbiamo finito, dai, su, 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 tengo duro, ultimo 8, 8, 7, 6, contrargo bene, 5, 4, 3, 2, e a terra, allungo le gambe, allungo le braccia dietro, e rimango, respiro, da qua, ci giriamo a pancia in giù, appoggio le ginocchia, ai piedi, e a terra, sedere sui piedi, e allungo, bene, porto tutto il pezzo a piedi, lentamente ci rincazziamo, testa sempre, per ultima, facciamo un bel respiro, tutto fuori, ancora uno, e vi ringrazio, buon tutto, ciao!